amici ben trovati allora siete stati in vacanza o dovete ancora farle per i primi io spero che abbiate fatto il pieno di energie per i secondi speriamo che vi riposiate a tal punto di rientrare dalle vacanze anche voi con il pieno di energie energie per fare che cosa per affrontare la seconda parte di stagione settembre ottobre fine estate autunno profumi colori qualcosa di estremamente eccezionale da pedalare e da vivere in maniera completa ce l'auguriamo tutti quanti che possano essere due mesi splendide dal punto di vista meteo proprio perché hanno queste caratteristiche così diciamo eccezionali ragazzi noi nel frattempo in questo ultimo mese abbiamo lavorato veramente a più non posso siamo pronti per partire con il nuovissimo sito internet per il quale abbiamo veramente dato anche e credetemi l'anima ma non solo abbiamo dato qualcosa in più anche dell'anima per realizzare le nostre ultime otto sedute di allenamento sono prontissime fra poco vi daremo e vi dirò quelli che sono i dettagli le sfumature quando utilizzarle come utilizzarle in che periodo farlo in quale sezione dell'anno contestualizzare una piuttosto che un'altra seduta di allenamento parto dalla prima la lezione omaggio alla quale naturalmente tutti quanti potranno gratuitamente averne accesso è una cosa davvero incredibile perché non mi poteva sembrare vero realizzare tutto questo ma alla fine si è invece concretizzato è una mia intuizione un mio desiderio quello di fare una seduta di allenamento non da solo ma in compagnia di due amici che solitamente condividono con me le uscite in bicicletta insieme ovviamente a tanti altri ma loro due nello specifico sono due ragazzi con i quali ho un feeling davvero molto particolare e quindi la seduta gratuita che vedrete dalla prossima settimana appunto disponibile online sarà in tre atleti più te che sarai il quarto atleta e tutto quello che sta dentro a questa seduta di allenamento è fatta in modo è fatto in modo che si possa fruire questo concetto di allenamento non soltanto in maniera esclusiva ma condivisa appunto con altri atleti quante volte succede per una dinamica di allenamento che servono più persone per realizzarla ecco è questo un po diciamo il filone che abbiamo ho voluto intraprendere in questa seduta speciale del metodo pitte e vi aspetto tutti quanti pronti con il click per scaricare questa nuovissima seduta di allenamento che vedrete ragazzi sarà estremamente coinvolgente perché ci alleneremo veramente in gruppo vi aspetto e soprattutto questa seduta mi raccomando condividetela condividetela e condividetela ciao